E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete detto lo titolo andremo a recensire il falco lunare, canone portatile esotico di Destiny 1 tornato in Destiny 2 con la quest sfoderare gli artigli di cui trovate la guida completa sul canale. Prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Andiamo quindi subito a vedere il perk esotico di quest'arma. Come già annunciato da Bungie in passato il perk del falco non è lo stesso di Destiny 1 dove il cannone aveva alcuni colpi caricati all'interno del caricatore. Tuttavia questi erano random e ad ogni sparo non potevamo sapere quale colpo sarebbe stato caricato. Con questo ritorno quindi il perk è stato modificato a mio parere in maniera corretta e soprattutto equilibrata. Il perk esotico del falco ora ci permette di accumulare stack di carica paracausale mettendo colpi precisi o uccidendo i nemici. Questa carica servirà poi per aumentare il danno dell'ultimo colpo in base a quanti stack avremo accumulato. Ricordandoci però che ricaricando l'arma questi torneranno a zero. Viene da sé quindi che il perk è abbastanza occasionale soprattutto per quanto riguarda il pvp dove l'arma trova un'applicazione un po' più interessante. Qui di default avremo un danno di 47 al corpo e di 70 in testa. Come tutti i cannone a 140 bpm quindi 3 colpi in testa ci daranno la kill. Andando però ad aumentare gli stack di carica paracausale il danno dell'ultimo colpo aumenterà esponenzialmente secondo la tabella che vedete a schermo. Ovviamente possiamo caricare un massimo di 7 colpi essendo il caricatore dell'arma da 8 e in caso riuscissimo a caricarli tutti questa arriverebbe addirittura a shottare in body. Tuttavia la sua attitudine per il pvp non è finita qui perché il secondo perk del falco ci dice che questo sarà droppabile con statistiche casuali. Non sappiamo ancora come sarà possibile ridropparla ma quando succederà otterremo l'arma con statistiche random addirittura aggiuntive come per esempio perk quali telemetro o tiro d'apertura. Di per sé questo è già uno dei migliori cannoni portateli in game per quanto riguarda le statistiche se in più aggiungiamo anche perk simili non ho su immaginare cosa potrebbe diventare. Un aspetto che però personalmente mi ha fatto storcere un po' il naso è il fatto che la ricarica ha non dal perk e che giocando io con i passi tasversivi ho dovuto cambiarli per non ricaricare ogni 2 secondi. Non fraintendetemi perché questa è sicuramente un'ottima scelta da parte di Bungie dato che altrimenti avremmo avuto il colpo caricato ogni 2 kill e sarebbe stato un po' eccessivo. Passando al pve l'arma non spicca rispetto a tante altre, il perk è sicuramente comodo per fare i mini boss dato che potete facilmente accumulare carica paracausale contro i mob minori e volendo può essere usato anche per il dps rimanendo però una spanna sotto a tante altre armi. Facendo il solito test di calli con pozze divinity per avere sempre il colpo caricato al massimo il danno è stato di circa 300.000, decisamente poco rispetto ai 400.000 di un'oxionofagia o addirittura 600.000 di un lamento. In generale comunque il falco ha un rinculo nella media per un 140, una velocità di ricarica abbastanza rapida e una agitata medio alta. Tutte statistiche che come ho già detto lo rendono un'ottima arma da pvp. Quindi ragazzi io spero che il video sia stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se l'arma vi piace o se invece non vi convince, io vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita e detto questo noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.